Bello, tranquillo. La mia voce qui, pim, pum, pam, ok. Ora registro la vostra. Parlate. Ci sono. Non l'avete neanche vista la scaletta? Sì, io ci sono sulla scaletta. Ho anche scritto il mio suggerimento, guarda, sull'argomento a piacere. È vero, è vero. Ma è a casa, non sta facendo niente da settimane. Benvenuti a una stranissima puntata in telelavoro, in tele, in smart working di Joypad, ovvero Corri. Speriamo che si senta in maniera decente, però abbiate pazienza. Gli ascoltatori del podcast in assoluto come categoria antropologica devono essere più pazienti in questi giorni, anche se la domanda di podcast potenzialmente cresce molto. Come stiamo ciascuno a casa propria? Zampa come va? Bene. Zampa, possiamo dirlo, diciamolo, ti sei riprodotto, quindi oltre alla quarantena ti sei ririprodotto. Quindi tu hai un neonato di pochi giorni, una di pochi anni e sei chiuso in casa. Sì, ecco, se pensate che la vostra di quarantena sia problematica, non avete idea di cosa sia questa. E Francesco come va? Tutto bene, qualche settimana fa ho anche avuto la febbre, ma non era coronavirus. Cioè ti sei fatto il tampone? No, 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 si sono rifiutati di farmelo. Ho telefonato per la serenità di chi mi stava attorno, ma mi hanno detto no, non c'è bisogno, sarà influenza stagionale. Così è stato. C'è da dire però che avendo tu un passato di, non so come dire, gourmet, di animali che trovavi per strada... È vero, potrebbe essere un ceppo che invece che dai pipistrelli arriva dagli istrici, va benissimo. Sì, il tuo tipo umano è quello che in versione cinese produce queste, perché va al mercato e vuole avere tutto, vuole l'anguilla, la capra, il ragno, il pepistrello, lo zibetto e quindi... Noi toscani siamo così. Han cancellato l'E3? Lo hanno fatto. Ah, così quest'anno non c'è questa, basta andare al primavera, vieni all'E3, cancelleranno anche primavera. Vabbè, che lo sa. A Maso cancelleranno tutto, avevano già cancellato qualche settimana fa la GDC, se non sbaglio, anzi l'avevano rispostata in estate, a giugno o a luglio, verosimilmente sposteranno anche quello, la cancelleranno del tutto. L'E3 in realtà ci sarà, anzi probabilmente lo faranno, ma in una forma un po' più di smart working anche quella, dove organizzeranno gli streaming delle varie conferenze. Ubisoft ha già confermato che sta lavorando per farla. Anche Microsoft ha confermato che farà i suoi annunci in streaming, comunque mi aspetto che non sia l'ultimo evento a saltare. Ancora non c'è nessuna conferma sul Computex di Taipei, ma insomma è più o meno nello stesso periodo, anzi forse un po' prima, a inizio giugno, e quindi credo che anche quello salterà. Devo dire che sono... Non saltano le consegne, scusa se ti interrompo, le consegne dei fattorini a domicilio, quindi Zampa può comprare in questi giorni un microfono normale, una cosa a qualche decina di euro, invece di usare dei ramarri morti per amplificare la sua voce. Va bene, anche perché ramarri morti ti sto finendo. Bene. Dicevi scusate che gli organizzatori della Gamescom, che è la più grande fiera europea dedicata al videogioco che di solito si tiene alla fine di agosto, sono stati molto ottimisti, perché dopo circa dieci minuti dall'annuncio della cancellazione delle tre, hanno mandato una mail in cui invitavano ad acquistare i biglietti. Sì, ecco, non bellissimo. No, non bellissimo, proprio come azione, ma io credo che si siano... Abbiamo pensato che fossero molto delusi, allora abbiamo detto perché non subito alleviare questa fatica, questo stress di delusione. Secondo me è il passo più lungo della gamba, non credo che la Gamescom si possa fare. Ma anche perché quante persone raccoglie la Gamescom ogni anno? È tra le fiere, forse di videogiochi, la più grande in Europa, se non anche al mondo. Forse è la seconda dopo un'altra fiera che c'è in Giappone, proprio a livello di affluenza, però sì, è veramente enorme. E per quanto i tedeschi possano essere sicuri della tenuta del loro sistema sanitario, c'è anche da dire che poi le aziende che devono partecipare sono aziende internazionali. Se non ti mandano gli allestitori o non organizzano qualcosa, io non credo proprio che sia fattibile pensare quest'anno a quell'evento. Certo, prima di proseguire, volevo chiedere a voi esperti, questo toner, microfono, condensatore professionale, studio, computer, pc, kit... No, no, vabbè, lo facciamo dopo la puntata, ti facciamo in telelavoro. 27 euro. Ti spiego io cosa devi comprare. Ma aspetta un attimo, iniziamo con gli argomenti, dai, iniziamo con gli argomenti. È una puntata un po' artigianale, ma funziona così. Ne abbiamo poi un'altra che pubblicheremo, che è stata fatta prima, in cui non si parla mai del coronavirus, però ci sono argomenti interessanti e quindi la pubblicheremo. Oggi invece si parla di virus, di pandemie, sperando che nessuno la interpreti come una cosa di cattivo gusto, è, semmai, per esorcizzare un po', anzi, questa situazione. Certo. Quando mia sorella aspettava il primo figlio, io le regalavo solo dei libri di gente morta, squartata, e alla fine mi ha dato ragione. Ogni altro figlio ne voleva degli altri, perché è catartico. Allora, cominciamo con la saga di Resident Evil e io forse partirei da Resident Evil in prima persona, perché è l'ultimo che ho fatto. Recentemente ho fatto quello. Prego, allora, Matteo. Silenzio. No, volevo dire che nella sua manifestazione non più recente, quella prima, giusto? Sì, diciamo più recente... Tre anni fa? Sì, tre anni fa, più recente in termini numerici, è l'ultimo capitolo numerato, perché poi andando avanti in realtà c'è stato un recupero dei capitoli originali, che sono stati rivisitati e modernati, però quello in prima persona, che citi tu, che è Resident Evil 8, è quello più nuovo, l'ultimo capitolo numerato ufficiale della serie. Sì, e devo dire che era uno strano, veramente uno strano pastiche... Sette? Sette, hai ragione tu, scusami, sono andato... Guardavo il futuro... Ricordavo una questione grafica sul logo con il nome, che era proprio bellissima. Cioè c'era tutto uno... Il gioco è una specie di mistone fra non aprite quella porta e Resident Evil, cioè ha dentro proprio delle strutture che sono del film di Toe Booper e non c'è storia, quello è. Quindi il mondo degli orrendi bifolchi, che in questo caso sono anche degli esseri non normali, ma insomma il mondo dei bifolchi, dei redneck, che diventa un mondo di mostri, quindi c'è questa citazione quasi totale del film. Voi siete stati grandi fan della saga di Resident Evil, in particolare quali capitoli? Perché ogni volta che io parlo di quello dei carrellini, Zampa parla della statua di Napoleone e sembra che non sia chiaro che quello è il più bel Resident Evil di sempre. Però Zampa ha ragione, la statua gigante di un nano vestito da Napoleone, insomma era un po' kitsch ed era in Resident Evil 4. Però il 4 è più bello, no? Non sono, io mi accodo a questi mugugni di Zampa, non sono pienamente... Però dovete dirne uno più bello, non basta dire no? No, l'uno, senza dubbio, per me è proprio a mani basse, ma perché a parte aveva un setting che era molto molto più potente, perché era tutto ambientato in un ambiente chiuso, che era la casa della... ecco mi viene Shinra, ma non è sicuramente Shinra, ma è Umbrella. Umbrella? Zampa in mente a solo fare una famiglia di sette adesso. Sì, chiaramente, perché ha tuttora una delle scene in cui, se tu chiedi a uno che ha fatto i videogiochi, che ha la nostra età, qual è la scena in cui si è cagato di più giocando, lui ti dice quella dei cani, perché tu sai che in quel momento tu ti cachi addosso, ma proprio al 100%. E perché era al tempo una roba, insomma, di un certo... di una certa portata. Io ci giocai su un PC, era un Pentium MMX 166, a 320x2,40, quindi in una finestrella minuscola, e nonostante tutto lo ricordo ancora come una roba impressionante. Sono d'accordo, nel senso che anch'io andrei dalle parti della trilogia classica. Sono un po' indeciso se eleggere, come il mio preferito, il primo o il secondo. Fra l'altro, comunque sia, all'epoca c'era proprio la tematica della pandemia e del contagio, che poi in Resident Evil 7 è stata un po' ridimensionata, proprio per, appunto, andare a raccontare le storie di Redneck, come dicevi tu. Ricordiamoci che il titolo originale di Resident Evil era Biohazard. Biohazard, esatto. Quindi proprio rischio biologico. E, secondo me, anche nel passaggio dal primo al secondo Resident Evil, si raccontava un po' l'esplosione di un'epidemia, perché si passava dal primo episodio, che come diceva Zampa, era ambientato in un ambiente molto chiuso, a un secondo episodio in cui si vedevano gli effetti di questa epidemia, in realtà all'interno di una città, che è la classica, storica, Raccoon City, che poi veniva completamente rasa al suolo per tentare di contenere la diffusione di questo virus. Anche se poi in tutti i giochi, alla fine, comunque anche quando si sono spostati, quando sono andati in Africa col 5, la dimensione del contagio è sempre stata abbastanza racchiusa, se non sbaglio. Non c'è mai stata la situazione coronavirus, dove troviamo le intere nazioni. Erano raccune, erano il villaggetto, il monastero del 4. Sì, sì, mai su scala globale. Guarda, forse i Resident Evil, i due che sono usciti su Nintendo 3DS, o forse solo il primo uscito su Nintendo 3DS, si chiamava Outbreak, e aveva quella dimensione un po' più estesa, perché arrivava il contagio su una piccola nazione che si trovava su un'isola e vabbè, faceva grandi danni. Direi che se non vogliamo durare ore e ore dobbiamo parlare di Left 4 Dead. Ma Left 4 Dead, ma che bomba di gioco era? No, bellissimo. Ce lo descriva per sommi capi chi vuole, io no. Allora, lo faccio io, perché ricordo di aver desiderato al tempo furentemente un Xbox 360 per poterci giocare, ma era un gioco intanto di Valve, uno dei tre che ha fatto negli ultimi 150 anni, uno shooter cooperativo a quattro giocatori, dove in sostanza tu eri uno dei pochissimi sopravvissuti a questo virus che trasformava in zombie, era Green Flu, si chiamava. Questi zombie erano di diversi tipi che riprendevano un po' gli archetipi classici dei nemici dei videogiochi, quindi c'erano, anche si chiamavano blooper, quelli che esplodevano, cittoni, stifosi. Quelli che si gonfiavano e esplodevano, poi c'erano puker, tipo, che era quello che ti vomitava addosso, poi c'era la strega, e allora da vedere, io ricordo che un po' iniziava a far sentire il fatto che fosse creato con Source, che è lo stesso motore di Half-Life che era uscito dieci anni prima rispetto a quello, però era super opprimente, cioè era un gioco dove intanto dovevi cooperare tantissimo per andare avanti e poi avevi la situazione, nella sensazione del pericolo ogni finestra che stava per... Il gioco aveva dei sistemi per far sì che il gruppo dei quattro fosse un gruppo di fatto, cioè nel momento in cui i giocatori sulla mappa si allontanavano troppo e stavano lontani per troppo tempo, il sistema ti mandava orde di mostri orrendi. Cioè era già Fortnite. L'unico modo era star vicini, odiandosi. Io ho partecipato ad alcune partite, perché in quel periodo, insomma ce l'avevo, l'Xbox, in cui c'era un personaggio che insultava l'altro in maniera quasi sistematica. Sì. Perché essendo quattro ad alti livelli basta che ce ne sia uno fannullone che la partita se ne va a Ramengo. Ma poi era uno dei... Forse dei primi no, però era su Xbox, dove tutta l'infrastruttura online con i live era molto più avanti rispetto a quella di PlayStation e era un... Viaggiava esattamente con quella dinamica. Cioè tu volevi interagire così tanto in maniera cooperativa con gli altri fino a trovarti il ciccione dell'Illinois che ti insultava perché hai aperto la porta sbagliata. Se notate che Zampa si riferisce a persone sovrappeso con espressioni non esattamente così gentili è perché è un ex grasso e quindi si sente in diritto di farlo quindi parlatene con lui e va bene così. Tra l'altro noi grassi non smettiamo mai di esserlo anche se poi diventiamo magri. Ah ok, quindi è un grasso. è un grasso in incognita al momento travestito. A proposito di questi argomenti catartici abbiamo in scaletta Death Stranding. Vogliamo di nuovo parlare del gioco più bello degli ultimi anni senza gara, senza appello senza bisogno di guardarsi intorno capolavoro assoluto, totale. Prima di passare oltre devo fare una correzione perché ho detto prima Resident Evil Outbreak invece è il Revelation e lo so che gli ascoltatori sono già lì tutti indignati quindi mi corrego. Però sì, passiamo a Death Stranding perché proprio in questi giorni qualcuno dice che Kojima è stato a suo modo profetico nel raccontare un mondo diviso in cui a seguito di una catastrofe tutti i sopravvissuti si sono rintanati nelle loro abitazioni che in realtà sono rifugi sotterranei oppure grandi città ma in cui di nuovo si vive sottoterra e per la sopravvivenza di questa società di questo relitto della società c'è bisogno dei fattorini che consegni che facciano appunto le consegne e rappresentino l'unica rete di connessione fra appunto questi sopravvissuti sparsi per il globo. Vale anche adesso e sono rappresentati da quelli di Deliveroo o di Amazon. Sì esattamente Un po' è stata una delle critiche che i detrattori hanno mosso a Death Stranding era proprio quella che il gioco fosse un simulatore di Deliveroo ne abbiamo già parlato e guarda caso adesso abbiamo la riprova della funzione civile e sociale dei fattorini. Dei fattorini di ogni tipo cioè Ecuador diciamo subcontinente indiano e Africa Equatoriale per quanto riguarda le consegne nella gran parte dei casi poi c'è un po' di fascia nord-africana e varie ed eventuali però sono nazioni alle quali dobbiamo essere molto grati in questi momenti perché se no non si muove più niente. Secondo me la popolazione chiave è proprio l'Equador se scatta uno sciopero equadoregno è la fine di qualunque consegna. Va bene Death Stranding Date le grandi mance se no io come faccio a arrivare la poca è a casa. Abbiamo parlato di tre titoloni sul contagio ma sta per arrivare il gioco che racconta la storia dentro al contagio più strappalacrime e meglio fatto degli ultimi tempi. Siamo sempre noi ovvero quelli di Joypad cioè Corri Salta e Spara Matteo Bordone Francesco Fossetti e Alessandro Zampini Sì con un po' più di brio perché non è un podcast qui tra Savona e Pinerolo con quell'entusiasmo lì che ce lo scambiamo e parliamo abbiamo un capitolo intero dedicato a quel giocone gigantesco che è stato e che è The Last of Us di cui sta per arrivare un seguito ma ne parliamo dopo adesso concentriamoci sul primo capitolo primo capitolo che ha raccontato proprio in maniera forse nella maniera più cruda e più efficace le conseguenze di una pandemia scoppiata in maniera violenta e imprevista e che ha cambiato per sempre nel mondo di The Last of Us ovviamente i lineamenti della società sì le famiglie non esistono più in quanto tali tutti sono degli avanzi dei pezzi di famiglie che non ci sono più che sono state tutte smembrate dalla pandemia che è un'altra pandemia di zombie diciamo che si basa si basa su un fungo parassita degli insetti che è il Cordyceps e si ipotizza nel gioco che il Cordyceps che effettivamente nel mondo degli insetti intacca l'organismo dell'insetto e lo divora e poi lo fa agire contro la propria volontà in alcuni casi si immagina che passi all'uomo che quindi gli uomini siano guidati da una tigna patologica diciamo da una forza più grande di loro che li rende delle specie di zombie poi di fatto ed è la storia però il bello del gioco è che non è un gioco che racconta questo è un gioco che racconta i rapporti umani in questa situazione di stress si comincia in realtà anche a raccontare un po' la disgregazione della società perché i primi momenti di gioco sono ambientati all'interno di una zona di quarantena di Boston in cui si vedono diciamo le conseguenze estreme del regime marziale che per contenere l'epidemia è stato instaurato quindi quando qualcuno viene trovato positivo c'è proprio gli viene fatta un'iniezione letale sul momento senza possibilità di appello perché non c'è nemmeno non si può nemmeno correre il rischio che si diffonda o che diventi un problema che la malattia si diffonda o che diventi un problema all'interno della comunità ma poi in realtà come giustamente dicevi tu si esce da questa zona di quarantena ed è il racconto di un lungo viaggio compiuto dai due protagonisti che attraversano l'America è un viaggio che è un po' di speranza perché sì è una speranzosa malinconia quella di Dalas Tovas esatto però ogni tanto a me è venuto da pensare giocando che facendoti vedere anche la bestialità dell'uomo che emerge in queste situazioni di crisi e contrapponendola invece a una sorta di poesia naturale le giraffe stai parlando delle giraffe sì esatto c'è un momento in cui appunto i due protagonisti incontrano le giraffe ma non è solo quello giraffe scappate dallo zoo di Salt Lake City ma non è solo quello ci sono ogni tanto degli scenari in cui ti viene quasi da percepire che la bellezza della natura che rivendica gli spazi confrontata con la bestialità dell'uomo che invece è stata disfrenata da questo contagio ecco sia forse in qualche caso anche un po' preferibile cioè secondo me è una critica molto dura a alcuni sentimenti che albergano all'interno degli uomini come l'egoismo insomma ah sì ma è un gioco che senza essere peloso fa anche quel lavoro lì è quella dinamica che c'è in moltissimi film o serie o libri su apocalissi o virus dove alla fine è sempre poi il tuo collega sopravvissuto o umano quello a romperti i foglioni di più e a rappresentare il pericolo maggiore rispetto invece a in questo caso gli infetti che agiscono un po' un po' in maniera istintiva e non con con della pianificazione dietro tra l'altro non l'abbiamo detto ma dando per scontato che tutti lo conoscano ma è un gioco d'avventura in terza persona con con un impianto survival dietro che si è rapportato io me lo ricordo diverse diverse zampa non non è più percepito non c'è non c'è ti vediamo visivamente io ti vedo parla no adesso sì per quanto non mi si è sentito per tanto vabbè a posto così fai un lungo bip nell'intervento vabbè è così è così zampa voleva dire una cosa intelligentissima su The Last of Us ma ma io l'ho detta e alla fine della puntata io ricorderò di aver detto la cosa del grattacero certo certo chi coglie questa gli vogliamo molto bene scusate l'hanno accoluto allora io volevo prima di passare oltre volevo dire che fra i titoli che abbiamo citato e anche fra quelli che citeremo secondo me The Last of Us è comunque quello che mette di più sotto gli occhi del giocatore proprio la tematica della pandemia sì è previsto per la fine di maggio l'uscita del sequel della Stovas parte 2 sì tu ci hai giocato un po' io ci ho giocato ci ho giocato un po' no quello che mi chiedo è uscirà uscirà cioè secondo voi di fronte all'emergenza che stiamo vivendo non sarà forse un po' tipo Spider-Man con le torri gemelle poco dopo l'11 settembre io già mi ricordo che quando uscì Rainbow Six Siege che era un titolo che parlava di terrorismo e contro terrorismo ci fu l'attacco terroristico a Parigi e Ubisoft decise di fare uscire il titolo ma di interrompere completamente la comunicazione come se non esiste sì è stato più che interrotta è stata interrata la comunicazione quel gioco è uscito come neanche un gioco che facciamo io e Zampa in Basic domani sera e mi chiedo se con The Last of Us sia destinato a ripetersi questo questa situazione e mi chiedo se sia anche legittimo pensare a una cosa del genere oppure no volevo sapere che cosa ne pensate sul che succedere la stessa situazione non credo più che altro anche perché qua c'è di mezzo c'è di mezzo Sony che ha un peso diverso rispetto a Ubisoft e ha un gioco che è oggettivamente la cosa più grossa che succederà quest'anno eventuali nuove console nuove console a parte è anche probabilmente una questione una questione di tempo adesso siamo al metà marzo probabilmente per allora speriamo tutto avrà preso almeno una traiettoria quantomeno possa rassicurare un po' di più nel caso ci rassicuri se no vabbè dipende anche dalla comunicazione io ho la sensazione che comunicato nel modo giusto un gioco che è stato realizzato completamente prima dell'inizio di tutto questo ma che in una qualche misura è stato profetico ha raccontato una cosa nella quale possiamo riconoscerci come setting si possa comunicare così tanto è un prodotto altissimo non stiamo parlando di un call of duty epidemic stiamo parlando della cosa più insieme spettacolare divertente ma anche raffinata che abbia prodotto il mondo dei videogiochi diciamo cari deluxe degli ultimi tempi va bene speriamo speriamo quindi che non ci siano rinvi state sempre ascoltando joypad ovvero corri salta e spara puntata particolare ognuno a casa propria e stiamo parlando di giochi che si occupano di epidemie tra l'altro non vorrei essere sempre quello che al salditino ma c'è un'altissima possibilità che a un certo punto la porta della stanza in cui sono si apra e si sentano delle urla infernali a quel punto io metterò mute più velocemente che posso e voi proseguirete amabilmente mentre io cambio un pannolino certo certo perché noi per avere gli ascoltatori l'ascolto di joypad abbracciamo anche la più bieca retorica familista e quindi mandiamo in onda indiretta zampa che cambia il pannolino The Division e Days Gone questi sono i due titoli che abbiamo selezionato per questo angolino dei giochi insomma di medio livello uno che aspirava molto puntava molto in alto e non ce l'ha fatta e l'altro invece che credo che abbia avuto più o meno le sue dimensioni Francesco raccontiamo rapidamente la storia di The Division insomma del concetto che ci sta dietro e soprattutto dell'andamento del gioco allora The Division è un titolo pubblicato sviluppato e pubblicato da Ubisoft che si colloca nel filone di quelli che vengono chiamati in gergo Game as a Service l'obiettivo è quello di lanciare il prodotto e poi continuare a supportarlo con nuovi contenuti nel corso del tempo l'abbiamo scelto proprio per una questione narrativa perché il titolo che porta anche la firma di Tom Clancy perché il titolo completo è Tom Clancy's The Division parla appunto di un contagio forse è l'ultimo gioco scritto fisicamente con Tom Clancy ancora in vita quindi con la sceneggiatura firmata direttamente dall'autore che poi era un'azienda però insomma firmata dall'azienda e dicevo parla di un contagio di un di un'epidemia che si è diffusa nel corso del Black Friday attraverso il denaro quindi le banconote lo scambio di denaro è stato il veicolo il vettore dell'epidemia non mi azzardo a dire se è un'epidemia virale batteriologica non me lo ricordo però c'era proprio c'erano questi due elementi cioè il denaro e la società quindi capitalistica che aveva trovato virus ok perfetto che aveva trovato proprio nel denaro il veicolo della sua disfatta era ambientato il primo capitolo a New York in una società appunto disgregata e si attivava come nella miglior fantapolitica appunto di Tom Clancy una cellula dormiente che era proprio quella della divisione che doveva ricostituire le componenti fondamentali della società quindi insomma il potere esecutivo legislativo e via dicendo il gioco ebbe una partenza molto tormentata perché appunto Ubisoft non riuscì stiamo parlando di cinque anni fa non mi ricordo più quattro cinque anni fa quattro anni fa ebbe una partenza molto tormentata perché Ubisoft non riuscì come molti altri che si che tentano la strada dei game as a service dei titoli sviluppo continuo a garantire un flusso di contenuti sufficiente a saziare il pubblico quindi ci fu un po' di malcontento parzialmente recuperato in corsa e poi insomma adesso è arrivato anche un secondo capitolo che questo proprio l'altro è partito con il desiderio di essere il nuovo Destiny il nuovo game as a service però di qualche tempo successivo e quindi magari studiato in un altro modo con un'altra ambientazione un altro concetto urbano eccetera e dopo poco è diventato un posto dove era impossibile stare dove ti ammazzava chiunque dove la curva di apprendimento per chi arrivava qualche settimana dopo era inaffrontabile invece il secondo capitolo mi sembra che sia proprio uscito ma senza aver fatto rumore di nessun volume no il secondo capitolo era dedicato esplicitamente alla community che si era mantenuta e conservata dal primo episodio c'è approdato anche qualche nuovo giocatore ha fatto la storia principale stavolta l'ambientazione è quella di Washington però sì come giustamente dicevi tu non aveva più l'ambizione di essere un grande blockbuster pronto a colonizzare nuove fasce di pubblico ma era appunto un regalo alla community che comunque sta continuando a supportarlo però giustamente ambizioni diverse il suo problema più grosso era che era proprio un po' troppo forse per gli impallinati cioè molti venivano da destini che aveva allargato al tempo il mercato anche a chi giocava ad altre cose e si è trovato a fare questo tipo di gioco cooperativo The Division dava molta meno soddisfazione nella partita semplice nel gioco normale perché era pieno di numeri e statistiche che prendeva dal mondo dei morp non da quello degli sparatutto e quindi tu ti ritrovavi a fare la tua azione con le coperture saltavi di qua e di là ti trovavi davanti il medico e poi devi sparare 25 minuti in testa sperando di doverlo abbattere il feeling che invece aveva l'headshot di Destiny non te lo dava The Division e quindi automaticamente questa cosa già restringeva le persone che poteva che poteva tirar dentro si è sempre stato un gioco un po' da ingegneri anche se esteticamente era molto appagante la ricostruzione soprattutto scenograficamente era molto bello ma aveva anche delle belle idee quando tu andavi nella adesso non mi ricordo come si chiamava zona nera nella zona nera tu giravi cercavi questi nemici prendevi il loro prendevi il loro loot e poi dovevi aspettare che arrivasse il salvataggio per andare via con quello che avevi raccolto il punto è che diventava una specie di stallo alla messicana quando scendeva questa corda perché potevi cooperare quindi ognuno si teneva quello che aveva oppure gli altri o tu stesso potevi organizzare delle trappole per abbatterli in modo da prendere tu quello che avevano preso loro e giocato in un certo modo ti dava anche un bel grado di tensione comunque si era molto bello anche a livello di atmosfera perché il primo era ambientato a New York in inverno quindi c'erano tutte queste strade coperte dalla neve il secondo non è riuscito a replicare non solo perché si è spostato a Washington ma perché è ambientato otto mesi dopo nel mezzo dell'estate e quindi c'è di nuovo questo concetto che abbiamo già raccontato in altri casi della natura che si risveglia che reclama nuovi spazi e quindi è un po' un affresco distopico già frequentato da altri da altri prodotti quindi meno originale anche nell'impatto scenico parliamo di Days Gone il gioco della motoretta in giro per le montagne degli Stati Uniti non mi ricordo dove è ambientato nel Midwest Oregon in Oregon proprio di là come è andato Days Gone racconta la storia di questo è una storia simile alle altre la ricostruzione di nuclei di resistenza diciamo sociali di qualche tipo che qui hanno un aspetto un po' più roboso un po' più di ascoltatori di Piero Peluco la moto rispetto a un mondo che è diventato ora è infestato da da altro si è infestato da queste creature sempre simili agli zombie che si chiamano i furiosi traduzione il termine originale è Freakers quindi secondo me la traduzione è anche indovinata che non sono proprio degli zombie ma tra l'urlo bizzarroni sarebbe stato a noi sarebbe piaciuto i bizzarroni secondo me Freaker arriva da freak out quindi dare di matto dare su tutte le furie e da lì furiosi no no ma va benissimo bizzarroni sarebbe stato bello perché in quel caso hai lo zombie che per esempio ti tira la lampada di sale oppure capito ti colpisce con il diablo ti colpisce con il diablo ma poi questo è più bizzarroni anche ti tira dei gatti per esempio degli incensi alpaciuli cose del genere dei libri di Peter Colosimo sui cerchi nel grano dicevamo ci sono queste questa epidemia è interessante che in questo caso c'è anche un po' uno spettro di complottismo perché l'epidemia diciamo è diffusa è controllata da azienda da un'azienda che poi diventa uno degli antagonisti diciamo delle figure antagoniste all'interno del racconto che è la nero e sì giustamente è un open world quindi ci si muove liberamente la particolarità è che il protagonista del gioco è un biker e quindi ne conserva tutte le tutti i valori ne conserva i valori di questa nel gruppo cui appartiene sì non è violento come Sons of Anarchy però diciamo è quel tipo di umanità lì e com'è andato il gioco il gioco è stato aspramente criticato dalla community di giocatori prima dell'uscita proprio perché sembrava sì esatto di solito sono sempre così gentili e andano a fare solo cose fondamentali quindi insomma sulla base di un po' di preconcetti cioè sul fatto che fosse anche questo a livello di immaginario molto simile per certi versi a The Last of Us alcuni erano girati alcuni video gameplay che facevano vedere un sistema di animazioni un po' ingessato poco fluido fatto sta che prima dell'uscita sono arrivate proprio delle valutazioni desolanti da parte della stampa il pubblico sembrava condannare questa esclusiva Sony come una delle peggiori poi in realtà quando ci hanno giocato si sono resi conto che un po' di valore produttivo c'era e quindi hanno avuto l'effetto contrario cioè visto che il gioco superava le aspettative esatto quella cosa lì visto che il gioco superava le aspettative si è creata una fanbase molto convinta ha venduto bene soprattutto in Giappone dove sono infognati con la figura degli zombie e quindi ha una sua è stato apprezzato ha un suo pool di estimatori insomma nemmeno troppo ristretto abbiamo parlato di The Division e Days Gone stiamo per arrivare ai nostri consigli con i quali vi saluteremo bene allora argomento a piacere di Joypad ovvero così magari uno si dimentica corri salta e spara argomento a piacere che riguarda sempre contagi epidemie pandemie questo argomento che abbiamo deciso di trattare con un intento strettamente catartico sono curioso di vedere come legherai perché io sto leggendo la scaletta come legherai il tuo suggerimento alla tematica pandemica ma prima allora non ne ha più bisogno perché ormai è diventata una sua battaglia quello di proporre questi giochi che io non riesco neanche a definire come ma in questa fase di consigli finale non se lo pone il problema perché il gioco che ha scritto lui non c'entra un'emerita fava e invece no e invece no e invece no vabbè Zampa vai tu con il tuo e poi vediamo che cosa si inventa bordone hai due minuti per preparartelo Matteo io guarda ce l'ho già tutto in testa non c'è problema io volevo in scaletta fino a forse 35 secondi fa c'era Plants vs. Zombie che è forse il gioco più soft scusami ma perché adesso c'è scritto Plague Incorporated perché in realtà Plague avrebbe dovuto essere all'interno della scaletta ma poi modificandola me lo sono perso e quindi ci ho rimesso Plague perché Plague è di fatto il gioco di questo coronavirus ma infatti mi sembrava mi sono detto ne abbiamo già parlato in un'altra puntata sarà un argomento bruciato cioè è il gioco di cui parlano tutti che il governo cinese ha bloccato dopo che aveva avuto di nuovo un picco di scaricamenti perché la gente sempre con questo intento catartico voleva giocare a Plague io ricordo di averci giocato talmente tanto che quando a metà gennaio iniziavano a venire fuori le prime notizie sul coronavirus in Cina ricordavo esattamente le immaginavo come se fossero i bannerini di Plague che ti dice il virus è mutato passato dai pipistrelli la Cina ha chiuso le città e sta andando esattamente in quel modo tra l'altro voi non lo sapete raccontiamo cos'è Plague Zampa che non lo sanno tutti ora non so esattamente come descriverlo è uno strategico gestionale uno strategico dove tu di fatto sei una pandemia o un'epidemia che vuole diventare pandemia un agente patogeno esatto sterminare il genere umano puoi scegliere tra il virus il fungo quello che ti pare e hai una serie di punti che ti puoi spendere in violenza della malattia e in diffusione il gioco sta nel riuscire a controbilanciare entrambe le cose perché se sei ti diffondi troppo velocemente ma se sei poco mortale poi la cura supera cioè la cura riesce a a distruggerti se invece sei troppo violento non riesci a infettare abbastanza persone perché ne uccidi troppo io devo dire che trovo mi è capitato di giocare recentemente a Plague lo trovo molto molto rassicurante perché è un gioco fatto bene da un tipo a cui è venuta questa idea e l'ha fatto spendendo due lire pagando un programmatore e basta ed è diventata la sua fonte di reddito ormai da anni è un gioco che supera le ere geologiche con una leggerezza assoluta perché il meccanismo di gioco è molto più interessante di mille meccanismi intorno ai quali si costruisce chissà cosa poi diventano giochi molto godibili però qui l'idea di giocare con le variabili delle epidemie è di quelle terrificanti e insieme irresistibili è difficilissimo ovviamente fare meglio della peste è molto difficile ragione no Zampa fammi finire perché devo dire delle cose da ottimista altrimenti se le controbilanciamo subito vuol dire che il nostro programma è completamente così è preso dal terrore dal panico invece stiamo positivi è molto complicato io non sono mai riuscito a diffondere il virus se non è un virus che due colpi di tosse allora io ho iniziato una partita mentre abbiamo iniziato questa puntata ho creato Zandemia che è un virus e sono al momento al 7 miliardi più o meno di morti sono sopravvissuti solo 595 mila persone tutte malate e credo che nel giro di qualche secondo scusa ma sei così forte a Play io non sono così forte cioè tu vinci sempre sì perché stavi parlando no però ho scelto ho scelto virus poi io giocandoci tanto all'inizio puoi sbloccare dei cosi di DNA più aggressivi comunque l'umanità è terminata questo per esorcizzare va bene grazie in 30 minuti una cosa del genere sì sì quando abbiamo iniziato allora io avevo scelto io avevo scelto una cosa per fare così come sfida ma se Zampa non parla di piante contro zombie io devo assolutamente parlare di piante contro zombie uno delle forse anzi senza forse sicuramente il miglior tower defense di sempre i tower defense sono dei giochi in cui storicamente c'è una torre che difende un castello diciamo dall'attacco dei nemici e l'unica cosa che fa il giocatore è gestire questa torre quindi costruirla metterci i cannoni metterci gli arcieri tutto quello che volete questa torre diventano poi tante torri in genere c'è un percorso e tu devi difendere un fortino dall'arrivo di nemici approntando delle armi piante contro zombie in piante contro zombie c'è una casa da difendere stanno arrivando gli zombie per mangiare il cervello al protagonista che siamo noi e quindi con l'utilizzo delle piante di un orto molto particolare il giocatore deve organizzare delle linee di difesa e fare in modo che questi zombie classici da Romero belli lenti vengano fermati prima di arrivare alla casa e far finire la partita credo che sia uno dei giochi più longevi e più appassionanti degli ultimi tempi proprio per il suo meccanismo di base per la fattura non so ho idea che tutti e tre noi lo abbiamo finito diverse volte diverse volte e per e per la noia domestica è il gioco perfetto in particolare lo si consiglia a chi possedesse un tablet di qualunque tipo un ipad o un qualunque tablet perché in quella versione in versione touch è veramente sublime con il mouse è un po' peggio il primo però perché tra l'altro veniva da un filotto di giochi che aveva prodotto PopCap in quegli anni che è stata poi acquisita da Electronic Arts Peggle e Peggle è stato un altro capolavoro totale e sembrava che non sbagliassero nulla sembrava tipo Rovio dopo due o tre anni dal primo Angry Birds sono andati avanti le acquisite EA e il secondo è stata una valle di lacrime tra microtransazioni cose da sbloccare free to play abbastanza deprimente se non sbaglio esiste anche un terzo che è stato appena lanciato come soft launch quello non è il Garden Warfare Garden Warfare è tutta un'altra roba con quei personaggi ma è abbastanza diverso non lo so se esiste un terzo in soft launch non lo conoscevo vabbè in ogni caso Piante contro zombie è consigliatissimo se ah sì su qualunque gira su qualunque computer troviate in giro costa niente insomma si trova in qualunque forma e modo quindi se uno non sa cosa fare Piante contro zombie regala molto ansiolitico procedurale per cui devi fare tutte le tue cosine niente procedurale era tutto fisso no no procedurale tuo non è procedurale nel senso che il gioco è procedurale ma insomma la tua modalità di gioco è tutta fatta di routine e di di processi che devi controllare quindi è come una grande puntata di com'è fatto però interattiva molto consigliato si è messo agli atti che davvero esiste un terzo ed è in soft launch in qualche paese bravo zampa io non non lo sapevo arriva la mia il mio turno dei consigli io non do un consiglio videoludico anzi non specificatamente videoludico do un consiglio per una lettura che non è neanche un libro o un articolo in particolare no vi do un consiglio cercate su su google articoli che parlino della epidemia corrupt dead blood di world of warcraft che è una delle storie più interessanti degli ultimi decenni nel mondo fra quelle verificate nel mondo videoludico è successo praticamente che all'interno di world of warcraft non mi ricordo quanti anni fa fosse stato insomma aggiunto un dungeon con un avversario che infettava i partecipanti infettava i personaggi con questo status negativo chiamato corrupted blood quindi sangue infetto l'idea è che questa infezione fosse contenuta solo all'interno dell'attività che prevedeva di sconfiggere questo boss in realtà è successo che per un bug questa infezione sia rimasta latente nei pet quindi negli animali che i personaggi si portavano dietro ma è bellissima questa cosa è bellissima non solo quando i personaggi uscivano poi dal dungeon in cui affrontare l'avversario il virus questa epidemia questa infezione restava negli animali si diffondeva e il punto era anche che in realtà era pensata questo status negativo per danneggiare solo i personaggi di alto livello quindi i personaggi di basso livello che la contraevano erano asintomatici no bellissimo il sogno di Karl Marx ed è una cosa meravigliosa anche studiare poi come la community di giocatori aveva reagito a questa cosa con alcuni che andavano fisicamente in isolamento perché avevano paura di prendere il virus quindi andavano nelle zone remote della mappa e ci sono epidemiologi che hanno studiato la cosa per capire la diffusione di virus come la SARS o l'influenza aviaria leggetevi fatevi una cultura su questo su questo aspetto perché è incredibile è successo sono andato a cercare nel 2005 nel 2005 quindi insomma 15 anni fa vi consiglio insomma di ci saranno paginate 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 figurati quando un argomento è così grosso e da una parte così nerd dall'altra così largo ne avrà scritto chiunque e quindi io non ne avevo mai sentito parlare poi dovremmo parlare una volta anche delle guerre di EVE Online sicuramente quella è un'altra storiona niente male una curiosità che ho sentito l'altro giorno pare che in ah ah non mi ricordo il gioco non mi ricordo il gioco non mi ricordo più in quale morgue tutti utilizzino si si ammalino l'avete letta questa cosa che è diventato di moda non mi ricordo va bene la tagliamo fermi qua abbiamo parlato solo di epidemie o di qualcosa di simile dentro ai videogiochi in questa puntata speciale fatta da casa di Gioipa dove rocorri salta e spara da Matteo Bordone Francesco Fossetti e Alessandro Zampini appuntamento a un'altra strana puntata che avevamo registrato prima e poi alla successiva non sappiamo quando arriveranno le altre puntate è tutto fatto a vista tanto è tutto a vista e quindi va bene così finirei dicendo visto che siamo tutti in casa Zampa gioca al gioco del neonato da neanche una settimana però se avete degli altri giochi a cui state giocando dichiariamolo perché i nostri ascoltatori saranno in casa e staranno giocando anche loro come degli ossessi io attualmente sto giocando a Ori and the Will of the Wisps ne abbiamo parlato è un platform dimensionale piacevolissimo nello stile e anche abbastanza impegnativo se avete un pc prestante o una console Microsoft lo trovate gratuito con il Game Pass cioè gratuito con il servizio di un abbonamento Game Pass che fra l'altro secondo me è un ottimo rimedio alla noia perché pagate un abbonamento mensile e avete centinaia di titoli a disposizione fra cui appunto questo meraviglioso platform 2D Zampa io sto giocando a Kentucky Zero Route che è un'avventura un po' strana sto giocando la versione Switch perché è iniziato a uscire per pc forse 5-6 anni fa è arrivato alla sua conclusione e ne è uscita una versione per Switch ambientato negli Stati Uniti con questa atmosfera un po' folcloristica un po' magica ed è molto molto bello ne parleremo perché sarà un consiglio bene io sto giocando e parleremo anche di questo a Nioh 2 sono uno dei più negati del mondo ma se mi metti dentro al Giappone medievale a fare il samurai con la katana e sono felice e quindi andiamo avanti così alla prossima puntata di Joypa dove roccori salta e spara con la katana Grazie a tutti